Si chiama Vanessa Vaughn, è una donna australiana, precisamente di Melbourne, la quale si è sottoposta ad una labbioplastica. È un intervento che riguarda ovviamente le labbra della vagina. Adesso la donna pensate che non riesce più a fare l'amore con una donna, cioè con un uomo, vabbè, non ha più rapporti sessuali. Precisamente a vent'anni, lo dei suoi ragazzi riviste che la sua patata era la peggiore che avesse mai visto, così ha detto di volerla rifare, detto fatto, si è rifatta le labbra della vagina. Però sta vivendo un incubo, infatti, non può più riuscire ad avere dei rapporti intimi e dei rapporti sessuali. Il clorgo ha tolto più del tessuto previsto, causando un dolore terribile, devastante e persistente, e anche perché non accettava quella vagina che aveva, anche per colpa di quel ragazzo che era addirittura, non sei bella con questa vagina qua. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, adesso la donna non riesce più a avere rapporti, sia la Vanessa e l'Australiana, ripeto di nuovo. Ciao a tutti e una buona giornata.